Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 4 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Sulla linea di partenza con il numero 5 Antolino Branca Grazie a tutti. 2,40 e 71 per Rosario Scerbo. Gruppo 2, sempre SS, classe 1150, dobbiamo premiare Antonino Branca. Con il tempo di 2,17 e 71. C'è? Eccolo che arriva. Bravo Antonino! Allora siamo quasi alla fine, andiamo a premiare ora l'assoluto dell'Under 23, primo classificato, ripetiamo il tempo, 2,17 e 71, Antonino Branca. Allora decimo classificato, Roberto Rocco Telesca. Nono classificato, tempo 2,39 e 18, vicinissimi. Saverio Barberio. Ottavo classificato, 2,37 e 24, Michele Mazza. Settimo classificato, 2,35 e 24, Antonino Miniaci. Va da quella parte. Sesto classificato, 2,34 e 0,8, Eugenio Catizzone. Quinto classificato, 2,31 e 40, Agostino Fallara. Sfiora il podio con il tempo di 2,31 e 30, quindi quarto classificato, Nicola Paolo Almirante. Allora siamo pronti per premiare il terzo classificato, premia la professoressa Caterina Prizzi, consigliere provinciale di Catanzaro dell'Oxen. E quindi terzo classificato, con il tempo di 2,21 e 37, Eugenio Scalercio. Secondo classificato, facciamo premiare al presidente regionale dell'Oxen, il maestro Antonio Caira. Che premia, con il tempo di 2,17 e 71, Antonino Branca. Bravo, Antonino! E ora, chiaramente deve premiare il padrone di casa, visto che siamo ospiti del comune. premia il sindaco, il dottor Vincenzo Serrao, quindi premiamo il primo assoluto che fa Tris, visto che aveva vinto anche la quarta e la quinta edizione, vince anche la sesta. Tempo 2,14 e 24, Gaetano Pecchino. Restate tutti lì per la foto di Rito, Enzo, Sergio, Antonio, c'è anche Antonio?